Ciao a tutti, lui è Gheorg e lei è Uppili e oggi andremo ad aprire le cose che abbiamo comprato nel negozio delle cose natalizie Sì Io credo Ok Mettiamo piano piano Prima di tutto abbiamo comprato degli stickers che se fai i regali puoi appiccicarlo c'è scritto per chi è e da chi è E questa è la tazza con il dinosauro Aspettate che prendo il pupazzo Che carino Ecco il pupazzo Questo assomigliano, vero? Perché sono uguali Era anche dentro la tazza Poi Poi questo è il mio bicchiere con il pupazzetto I nostri colori preferiti il mio il verde e l'elfo Non c'è disegnato C'è scritto Il piccolo aiutante di Babbo Natale Invece il pupazzetto di neve C'è scritto Felici vacanze di Natale Dinosaurino Poi queste faffaline dorate sono per appendere sull'albero Aspettate Abbiamo fatto vedere quanto costavano Allora questo dinosauro costa 3,49 Questo Questo Non c'è scritto Ok Prossimo Ok Poi abbiamo comprato dei piatti di Babbo Natale Qui c'è scritto Qui c'è scritto Il costo Poi altre faffaline Poi questo Poi delle bolle di sapone Si Allora guardate Io Di temperini La mia sorella ha preso questi Questi dei temperini eh Adesso io prendo questi E la mia sorella questo Poi abbiamo comprato delle borse da colorare Questa è di Al mio Al mio Altre farfalle Mamma mia quante farfalle Oh ecco I disegnetti Questi sono da appendere Guardate qua c'è il Babbo Natale E Ci sono versati dei glitter Delle perline Rosse E dice ho 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 Questo non c'è scritto Poi delle Delle stelline Da appendere sull'albero Mamma mia Sono tutto glitterato Con queste farfalle Poi qua abbiamo finito Ok Ma c'è qualcosa No Le bolle No mamma mia Poi delle palline Poi delle palline belle Da cambiare sull'albero Poi dei Che si chiamate Le cosine Non so come dire Decorazioni Si le decorazioni Questo è lo schiaccianoci Questo è un pinguino Questo è la renna La renna L'ho deciso io anche Babbo Natale Oferi ha deciso il pinguino Questo costa 2 euro e 49 Anche il mio Anche questo Anche questo L'ho ottenuto Anche questo L'ho ottenuto E non sei sicura Tocca questo Te lo prendo io Mamma mia Guardate quante cose Prima queste Decorazioni E da loro Mi vedo Anche dal rosso Anche queste sono palline Questa è la maschera Questa è la maschera Deo Feliz Tieni Bla 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 Questa è la mascherina natalizia Guardate che è carina Alleluia il mio sacchetto Ah c'è questo Sì Ma quanto costa Un bagnacene Oh ecco La mia è la renna E la sua è Babbo Natale Adesso Flottino Beh Anche la buona qua Perché C'è spazio Addio Ok Poi abbiamo comprato Questo slittino Ieri l'abbiamo usato Perché Erano arrivati Dei ospiti Quindi Abbiamo messo il gelato E poi abbiamo fatto così Perché era divertente Ecco perché Anche la buona Poi quando parliamo il biscotto Ce lo possiamo mettere E poi facciamo E poi Agli altri ce lo daremo Così come il vero Babbo Natale Poi io ho voluto queste orecchiette Ieri era notte quindi O io non l'ho prese perché l'avevo prese il cappello da elfo Oppure quello che lavora non l'ha messo dentro al sacchetto Poi abbiamo comprato Poi abbiamo comprato questi da colorare E ieri è una notte quindi non l'abbiamo potuto comprare Il cappello da elfo Questo è il mio da Babbo Natale E questo è di mio È una renna Rudolf Mi sa Poi Abbiamo comprato una letterina Ma non era mio Babbo Natale No era mio Poi abbiamo comprato una letterina L'ha voluto da mio fratello È un cagnolino Ma questo non lo costo E dentro c'è scritto Il piso Non lo so Mi sa che adesso questo lo apro perché è troppo bello E poi abbiamo comprato questo Questa è la mia tazza C'è scritto ho 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 E dentro il verde sono entrati alcuni glitter Io lo apro perché è troppo bello in una rivista Poi Facciamo queste con i regali Così scrivi per chi è e da chi è Da parte di chi è E delle calze Queste con la renna sono miei Mie E queste con gli alberi Sono di mio fratello Adesso sta aprendo Perché è troppo bello Io lo apro a Natale Sì Così Così Wow Questa è che sì che bellissima Wow Mamma mia Aspetta No vabbè Questi io li adoro quelli attaccati Sono molto piccoli Acrilici Sì Però penso così Davvero fino Davvero fino Non l'ho mai visto così fino Che serve l'acqua Che serve l'acqua No Aspetta Perché non si può bere Da rovinata Da rovinata Ok Qua Ok apri Poi sì Facciamo vedere il risultato Intanto i fiocchetti Lo apro Mamma mia Attento Mamma mia si esplode Ma come si apre? Ehm Questo blu Fatto Ma questo non serve l'acqua Guardate che bel blu Non so se lo vedete Però è bellissima No Immersi no? Penso che non serve l'acqua Ok Adesso sto spitturando i fiocchetti di neve No vabbè mi devi fuggire Attenzione Che davvero meglio Il mio papo Natale Io lo dipingerò a Natale Così mi godo Ehm Così mi diverto ancora di più E poi lo appenderemo Vero? Ehm Lì? Non lo so Va bene ragazzi Ci vediamo in un altro video Ciao 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 Ciao